Quanto è emerso oggi sulla nuova modalità di rilevazione dei dati Auditel, che novità presenta per il mondo, per il mercato della pubblicità? Una novità sostanziale perché finalmente iniziamo a misurare con una terza parte, cioè Auditel, certificata, quelli che sono le visioni da parte dei consumatori, delle persone, di programmi che viaggiano su internet. È una notizia positiva in generale? È una notizia positiva perché apre delle nuove possibilità di contattare meglio e più direttamente le persone per quello che riguarda gli investitori pubblicitari e di ripensare invece il modo di programmare per quello che riguarda i broadcaster. Questa novità in qualche modo porrà anche delle sfide, soprattutto per quanto riguarda tutto ciò che arriva da internet, dal mondo del web, che è molto più fluido e più complesso? Sì, è una sfida grossa perché ovviamente operiamo in un ambiente molto più complesso di quello della televisione lineare, ma ci attrezzeremo per competere. In generale è positivo, ottimista? Sì, sì, molto positivo, molto positivo perché apre delle possibilità, non le chiude.